E hai la testa un po' confusa, il tuo cuor non sa che dire Con l'arte magica ti saprò dire, quale vi è a seguir Eh, è la parola L'oroscopo scomposto? Sì, sì Peppe Channel Pronto Peppe? Buongiorno da Peppe Channel Eccolo qui, vediamo un po' Ecco a voi la classifica dei tre segni sfortunati di questo martedì 16 aprile In terza posizione pesci Coraggio, non potranno mai più dirvi che non valete una liga Ben sì, zero, piccola, zero, 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 zero Ma si è bloccato, è così Un centesimi Ah, ecco, un centesimi In terza posizione ariete Mentre voi andrete in vacanza con i vostri amici Vostra moglie se la spasserà Sì Corrigio Larro Corrigio Larro, bene, bene In prima posizione toro Ecco Salute Gli astri vi sorridono Salute Gli astri vi sorridono Eh già le rite Sesso Gli astri sono piegati in due Dalle risate Ah E dall'Eppe Channel è tutto A domani Con il primistrello Di Antonio Manganiello Mamoru Garro Con la classifica Dei tre segni Più sfortunati Allora Ciao Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti